In collaborazione con Glam Vision e Caffacli. Drammatico incidente in Val di Sole, un'auto è uscita dalla careggiata capottandosi più volte. Rosaria Pedrotti ha perso la vita, ferito il marito. Coronavirus 43, nuovi positivi nelle ultime 24 ore, ma nessun decesso. Aumenta di un'unità la terapia intensiva. Una sanatoria per gli stranieri che vivono, e spesso già lavorano, in Italia. Delle 873 domande presentate in Trentino, a fine aprile, meno del 28% prese in esame. Grandi carnivori in Trentino, la prima segnalazione di una cucciolata del 2021. Un'orsa accompagnata da un'orsa chiotto avvistata sul versante orientale dei Gaza. In Trentino, da inizio anno, ci sono stati quattro morti sul lavoro. Nei primi mesi del 2021 quasi 1.700 infortuni. I sindacati, rafforzare controlli, formazione e prevenzione. No. 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 il 730 che spacca